Quando abbiamo preso la teca dalla cassaforte, il sangue era assolutamente solido e rimane assolutamente solido. Diborgiamo la nostra preghiera a Dio Padre, datore di ogni bene, perché dia forza e coraggio al nostro popolo per affrontare i momenti di questa contingenza che sta costringendo tutti a ripensare la propria vita, ma sta anche creando tanti problemi per la vita quotidiana, soprattutto dei più deboli e dei più fragili. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome.